Alla fine che ci disfai, hai rotti i coglioni! Lui l'ha diventato sto povero cristo in metropolitana Dai che vi busto No, che stream c'è? Cos'è che stai dicendo? E mi sembra il modo migliore per passare San Valentino, tra l'altro No, Stunt Ma come cazzo fai ad essere? Ma c'è un monitor a parte, dove fai andare sta roba tutto il giorno Ma magari Porco Dio in queste occasioni servirebbe Va che chiaffa C'è quello là che Porco Dio c'è una voglia di scopare, ma... Talla risposta triga i tizi Che se ne solte si è cancellato il momento vuol dire che l'ha letto Pensa quanto a che merda che senti grossa come un treno che si è mangiato Dai, fai sta cazzo di lobby Ma quel raviolo che c'è lì chi è, Yuminai? Non lo so Ciutto dice che l'aveva beccato un'altra volta che si faceva fare un segotto C'era un video che... Eh, un segotto, quanto che ce ne erano due che si strusciava su lui Sarà una petta vita a casa di ste puttane Oppure prendere una casa chiuta e se no non è difficile il pagamento Mi tocca giocare Aspetta, aspetta Stuntri Venghi, venghi, c'è sempre posto Sarà il padrone del sito quello lì Eh, vabbè, io devo ancora fare la medaglia del service 2017 Ah, credo che non ce l'è quella del 2016 Voici Fai a pianto Ma chi è stato Succa плохо Chi è stato sempre il giurato forte? Che cazzo squadra è che è che è la lobby aperta Chi cazzo squadra è che è la lobby aperta Chi cazzo Succa Mγάbido Ma come chi? Chi cazzo è stata! Suu... Non ci prende base a cliccare Ma chi ha questo 67 era 1? E' giù Non ci перекadem Crow Kart te lo giuro che ne ho due giorni l'altra sera te la piazza di 30 l'altra sera io in ultima partita tre contro cinque con gli uomini che vi aggiorano ma guardiamo sarà tutto ma come fai a giocare il csq e a uomini ora si chiude uomini stai buttandola fino al 110 ovvio il pg superfassi bandare un'altra cavolo allora fami chiudere perchè il pg proprio te l'ha cancellato no no ti hai chiodato il serb no no a me non fa scegliere la squadra mi hai chiodato il serb e se va qui via quelli sono tutti donut citta dal nome dal nome quello di un citta quale? donut con quei disegni li un po' strani e inserchiamo con quei disegni li un po' strani inserchiamo non si fa schifo i suoni di sto gioco adesso oh beh il gunner è della Moldavia 600 ore un giocatore di Path of Exile e Heroes of Gem subolante se gioca a Path of Exile un po' strani un po' strani un po' strani mi raccomando che dopo c'è un'announcement su Path of Exile a fine mese ce la si smuove il giorno il buttons che si smuove i suoi due obbis due obbis tre obbis quale just report descend need cheat otherwise chiet Ma chi è stato qua? Gundam Mi raccomando anche te, Yumina Soprattutto dove sai il prossimo sito Vi vedremo delle belle Chi è qua? Just bad La vengono in visto Chi è qua? Yumina Fanno scale Fanno scale, ok Passati lunga Che sei accucciato, Drey Uno mid ancora Un po' verso scale Un po' verso scale Cal è messo male Faze Mi ha smettato niente Mi seguilo subito, Trigger Ma non è un po' di PSG Ma non è un po' di PSG Ma non è un po' di PSG Ma il trigg è quello, li potevi anche lasciarlo via Pensavo che Yuminae fosse più avanzato Invece c'era ancora base CCT Bianca c'è Stai bene l'uno Ti ho detto qua mi ha fatto venire il nervoso C'è il primo round, porco di Mi ha fatto la casa che mi ha tirato anche qui C'è A parte che ce l'hai più Un po' di PSG 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 Passano scale Un po' di PSG 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 Ah, non è mid! Un OBS, mi ha visto in posta OBS 1 Eh via, va questo qua come uscito Sì Dietro la scout è via 49 in 1 Mentre me lo faccio in casa, non si Sì Mazzavo anche quello, c'avevo arma, porto io che avevo un altro Sì Ci va da solo No, non ci va Deve capire che deve andare in pieda solo Ma è midi Sono io lunga, eh? Eh, hanno smockato lunga Non so se sono schiciti Tumino, è scalo 1-4 Mockano per passare, passi scale Pasati, eh! Non, sai passati, scale Stare che avanzato, knatter uno planna, uno al via c'è una pistola, Drake no, lo usco un nuovo piccolo uno scivolo ma dai ma dai aspetta il tizio, qua è un mostro eh con quell'arma di merdi vabbè report non ho capito l'ho visto al suo non ho capito flash in B short due flash B passi scale sono già passati scale passi scale passi scale passi scale come in B 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 for sure forse un altro un altro un altro forse forse un altro un altro fuori da lunga avopi via non muore torna indietro fuori da buia fuori da lunga non è passato un altro un altro fortissimo veramente un altro ma che può per te non so nonononononononononononononononononononononononononono un altro un altro un altro un altro un altro un altro ultimo ultimo guarda scale un altro un altro che un altro un altro un altro un altro ma che è andato E' un po' di piazza! E' un po' di piazza! Eh si! E' uno guarda il midi, tizzi in B E' B, è B, è buia! E' B E' B E' ancora entrato, entra adesso, i minai Dove la persa, l'obb? E' B, S Ok, ti è E' verso B, S E' B, S E' B, S E' F E' B, S E' B, S E' B, S E' C E' B, S E' B E' B E' B, S Guarda due basse Lunga Come usare su gli stupi Schmetto 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 3 contro 1 in eco 3 contro 1 in eco 3 contro 1 in eco sono in P7 sai che ha detto questo qua? in P7 eh si è la roba in P7 cos'è? posso passare la scale c'è anti-ciclo c'è scherzo vami in fossa no 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 sono già scale bianco mid 10 HP lunga c'è uno scale uno si è buttato giù il tizia io sono scale io sono scale si è buttato giù il tizia eh avp e uno 10 HP scale c'è l'uno si ti detto 39 in 1 scale 10 HP forse no scale è triple allora uno è lunga 10 HP l'altro vp è fossa non so quanti guarda per lungo io guardo se arriva a meta metti qua tu muori 100% va bene vai stavo già puntando 10 HP l'ultimo prendi video proprio io non so se era lunga è ovvio si dai dai push non so se era non c'era a tuciderne uno non c'era non c'era non c'era che sono ora ci ha percorso non c'era non c'era non c'era non c'era non c'era non c'era 2 verticali e 1 meter Passa no? Non so se la cassa è altra Adesso, questo qua mi fa prendere il nazismo e poi faccio il voto e kink, eh? Mi sta facendo impiazzare, pozzottino Smoked CT Grazie per me to B Come mid Dietro portone, entra mid E' sentito in B, eh? Di B B Mi piace ha preso lui la UB Poi mi prendo un po' e mezzo Se la vedo smalto No, l'avete sentito anche voi? Low mama? No, c'è i suoni personalizzati però No, l'avete sentito in B Uno si è lanciato a 30 E' finito Pianchissimo, lì Short Un altro Dentro portoni, dentro 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 Short E' se Schluss Mi pensa alcuna cassa Deploying flashbang Deploying flashbang la scala te lo vede il tings eh smi così eccolo 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 quello con la vbm che ne porta così no non è che viene lunga no porco dio voglio ticcarlo voglio ticcarlo bevo ti merda del tuo smoo a centro io beh hai smolato una smoke mid per coprire loro speravo che non ma ragazzi dov'è poter si invia dov'è poter si invia domodino cosa? a centro tu hai una smoke mid è colpa mia no pensavo che loro magari tornassero indietro andavano a ghiaggiavi i scale con la vp da mente foda certo poi la smoke il caso trovo io la vp però non ho soldi mi sa no stuì prego io ci mi hanno due vp io sono rinforzato comprate pistole hai due pistoline il mio vabbè no che cosa fa? volete provare a pushare scale che rushano sempre su no magari rushano scale ma no ok adesso questo lo lascia morire lui non ti fai se vuoi che se io lasciaquin mi hanno lasciato come si flash is low flash is low push in low pushing low in alto un altro un altro un altro è al blu al blu al blu per me ah mid 1 10 10 4 porco dio oh quant'odio questo tipo scale mi sa scale eh eh prendi quella shot shot 69 in 3, via Tocchi forse torni in DSB Eh ma non c'è l'io Eh no Non c'è l'io Giovi o you get kicked Ehm Porco dio non l'ho sopporto più Umba buia bassa Inche per giocare con nobo serve l'assicurazione Un altro buia bassa Non entra un cazzo Si si prima di entrare in partita con nobo firmano un'assicurazione Tipo quelli di ieri Beh quelli di ieri era giusto così Fili di puttana Che questo no Questo no Ma stai vi cosa cambia tutti i round Mi dai un'arma Che cazzo è? Friberg che può cambiare tutti i round Shoot dammi un'arma Questo è un po' JW Eccolo qua Tu cazzo Tu cazzo Uno è fuori dall'ulto Umba bassa ai mid flat få Leo Nuo L'ho chiacchiamo Agudio di giro che vi faccio perdere il game Lo fanno fermo e vieni pé Il flash Lo chiacchiamo Non ho mai aner No, no, non me ne fregai, questo da ha cliccato prima della fine della partita, hai capito oppure no? Va bene, lo chiacchiamo prima della fine partita, lo chiacchiamo, sono d'accordo Sono Skyrim Due BS Stare con canto? non ci sia una merda per lungo dash lunga K mid può essere già scale no scale sto guardando io uno è qua fuori da lungo uno è qua fuori avanza mi nascondo buco in A orto no mid scale mi stanno arrivando bombsite un altro mid mi ingaggia non guardo più beh va che culo avanza con lo scout l'azzo è l'unico che metto io con lo scout è uscito a mid uno uno scale ma che ti avanti in BS che è l'azzo è l'azzo che è l'azzo è l'azzo che ci ha spiega Puoi essere base cd o scale E' già lì sotto, eh, mi sa FACCIA! FACCIA! FACCIA LUI! Ah no, una, due, faccio! C'è un altro echo? No, GG Siamo in via quella paruta Yo, proviamo a fare il boost mid, solito Svegliamo, eh, però Eh, vabbè, ma porco Vabbè, buio, basta, c'è un'arma Passa una scale Vabbè, quanto faccio schifo Due mid Vabbè, 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 vabbè Vabbè, 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 vabbè No, 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 no. Deploying flashbang Grenade out Lo porto nel mid Vabbè no Lunga al blu c'è Comunque non fa roba in normale Come no Uno scale Ha cambiato l'arma a eliminare, hai sentito? Guarda sto rozzi Si anticipa sempre Puoi e basta He's going short maybe I like La flash Letta flash last version met Perfogli che film è? una fortuna che c'è io mina eh è fortuna che c'è volato in testa gli urgani se non ero morto 10 volte e siete spawnati nel bb nel bb è una roulette russa che prende a casa adesso meglio, sono il primo tira una fredda non è che è un kick non è che è un kick uno porta fuori uno viene non mi entra veramente zero fuori da prima due bali ct due bali ct due bali ct ct due bali ct due bali ct due bali ct due bali ct ct due bali ct ct due bali ct ct due bali ct C'è un po' sempre combi C'è un po' sempre combi Allora se adesso il Minai muore E il Minai con la K ammazzano E' finita Usciamo tutti da ds Attenzione che c'è lui C'è un po' sempre Qui sta guardando qualcuno Guarda mio C'è un po' sempre C'è un po' sempre Mi ha messo male Non scala Sì ma questo fa degli HS fuori scala Questo tizio qua Guarda 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 Era quello scala Terrorist with Trigger dammi quella merda Nooo me l'ho risucchiata just bad Dovevo farci scusa Dovevo farci Dovevo farci Dovevo farci io Dovevo farci io Ti sospira dentro No è la troppata verso di te Eh beh C'è un'altra messa nel mezzo Dovevo farci Dovevo farci Dovevo farci Dovevo farci Terrorist win oh che ho fatto la 6 via via uno su BS alto non so dove cazzo 1 side sono 30 fp ci sono 3 2 in smoke e 1 side 2 sono low eh vabbè questo qua da 1000 3 sotto 4 in l'angolo 4 in l'angolo anche lì l'ultimo credo di si scala 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 mi sembra ma l'ultimo ha hitato qualcuno ho chiudito il SSL è lì oddio il colpore ha dato drittissimo il mio guardate è un pratico player una volta mi chiamavo così eh dai entra in B vinciamo questo e ve lo tuttiamo chiaro un modino sarà sulla lista di morte di intervissime per il giorno se c'è la gente guarda la zona non c'è nessuno guarda 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 Ciao Leido, ciao! Goodbye, mio amico! No, tu vuoi dire? Goodbye, mio amico! Ti flasho mid se vuoi, io! Ti flasho, vai! Avvicinati! Un B ancora! Mi ha messo male qua! Dov'è? Eh, dovrei credere che nessuno di questi pusha lunga! Non ci credo, non ci credo! Uno è bi-plato, dietro la cassa! Guarda che timing che ho questo! Guarda che timing che ho questo! Ah, macchina! Andai, la bomba è fatta! Ah, vabbè! Oh, nicchia! Ah, si era bello! Si era bello! Ah, si! Ma dov'è? Ma porco dio! Mmm, droppa di un'arma! Guarda, salti, regali! No, vabbè, fatta vedere la piste! Vabbè, qui- Sto, sta, sto! Ho preso! Ah, aiut mi né, mi né il turno! Pronti! In questo caso c'è Rozi! Da coi, ovfor' non! Niente? Un iscale! Mi Matteo! Devo guardare il Carrusso di R unpl baru! Se ne sarà un altro in via c'era Rozi! Uhuh, fai lì t'o attaccato al partione! è passato eh questa flash di merda un portone buia buia no che sfiga io l'ho fatto in 26 in 1 no porco dio se lo ammazzavo così che andavo dentro provo a mirare pescina e volete provare a entrare ma sta smoccando sempre provo sarà vb che punta e un down ma che c'è la bomba dai 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 e non si sa eh diet ma il faccio così non mostra Cazzo otti! Furita B1 Non morire Però usci limite Aspetta, aspetta che se lo smacquai Sì Come fare da B1 Forse a Porto Tutti qua Adesso eco E adesso Facciamo un eco-rash B1 Facciamo un eco-rash B1 Prendi una smoke Però Sto tirando moto E' il primo esco in ogni caso Sì 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 Un altro mi sa Sì 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 per morire beh ragazzi comunque non è stata ammazzata uno che pusha così a cazzo arriva il cazzo di AK di merda in mano porco dio cioè se da la dbuia bassa senza l'AK di mano c'è la scale di ammazzato aspettiamo un attimo io c'avo l'AK non mi è uscito ma ho fatto due vantaggi avvo più lunghe ho flash era dall'angolo non so se è pulita forse avvicinati all'uscita ancora nessuno di voi sta guardando scale sanz sta avvicinati flash flash a sopra tirata male ha smoccato bs non so si vede un cazzo ci conviene da lunga il bs ci sarà un p eh conviene andare in b scat non ce l'abbiamo in b aspetta io faccio fake lunga allora fuori da qui lì è lì abbiamo siamo nati lunga 2 3 Ah figurati questo che cazzo si è messo Vabbè facciamo un echo Full proviamo ad entrare in B e planar Forco dio però E te lì che devi aspettare un attimo a uscire mid Ma... ma... ma inculato c'è una flash si tirano molto o sono da spade vieni, non mi spiega questo è di un larcho ragazzi 51 e 5 con la glock sono infernale non lo so, o proviamo ad entrare in B visto che io c'ho lo spawn cosi proviamo ad entrare in B con le arte ok se Rozi ci fa in 3 un'altra volta vabbè si vabbè ma non ti puoi fermare Trigg cioè la prima stanza che era l'ultimo adesso siamo in 2D eh ho capito siamo in 2D ho avuto bomb site, c'è uno sta pesando vabbè abbiamo perso uno fuori da B ultimo già fuori, già fuori nooo santarelli si è acceso in ultima con il 2004 mi entra un cazzo non so che cazzo fa si il problema è che Rozi è passato per lì è partita ha fatto 60 frag in 2 round ma anche Gaglia ma poi non aveva neanche bilanciato è giusto è strano perché loro ne hanno chiccato uno e poi ci hanno chiesto ma noi siamo in 4 perché non ne chiccate uno voi no? sai com'è mai è strano è strano è strano